L'approvazione del piano di riequilibrio è stato un risultato molto significativo per la città con cui sono stati sconfitti i nemici di Napoli. Così il sindaco di Napoli De Magistris in occasione di un incontro con la stampa ha commentato gli effetti che il sì della Corte dei Conti avrà sulla vita dell'ente, della città e dei cittadini. Tra i benefici del buon esito del ricorso rispetto al diniego della sezione regionale della Corte dei Conti, la riduzione dei tempi di pagamento ai creditori del Comune che si adegueranno ai tempi europei pari a 60-90 giorni entro la fine di questa consigliatura ed il riscontro anche sul fronte dell'immagine rispetto alla credibilità del Comune nei rapporti col mondo bancario, imprenditoriale e sociale. È stata annunciata infine la creazione di una nuova unità di progetto all'interno dell'amministrazione denominata Coordinamento Operativo degli Interventi Urgenti in Materia di Sicurezza e Igiene Urbana nella città di Napoli che partirà con una dotazione finanziaria iniziale di circa 6 milioni di euro. L'approvazione del piano di riequilibrio significa che è stato fatto un lavoro corretto, credibile e competente sui conti. Evitare fallimento significa evitare che non si pagano stipendi, che non si garantiscono più servizi essenziali come riscaldamento nelle scuole, illuminazione e raccolta di rifiuti. Non significa che siano diventati ricchi ma significa che si può cominciare a investire, si possono mettere più risorse sull'ambiente, sul trasporto, sulla sicurezza della nostra città, termina la salita pesantissima e si comincia a lavorare con maggior serenità anche in vista della città metropolitana. Ci sono circa 6 milioni di euro e questa è un'unità importante e amministrativa perché è più snella, è più rapida, non passa da tanti uffici, ha risorse, si può intervenire con urgenza in settori strategici per la vita dei cittadini che sono quelli della sicurezza, dell'ambiente e dell'igiene urbana e della manutenzione nella nostra città. È sperimentale ma se va bene noi l'allargheremo anche ad altri contesti importanti e significativi perché le priorità sono anche il sociale, la cultura e altri settori. Se funziona andremo avanti perché uno dei temi principali non è solo la difficoltà economico-finanziaria ma anche la lentezza complessiva della burocrazia. Essere sincero, soprattutto a gennaio quando la sezione regionale in modo ingiusto non ci ha accolto il piano, c'è stata molta cattiveria politica e il dispiacere è che io comprendo la dialettica dura nei confronti di chi ha vinto le elezioni, l'opposizione è anche durissima, però quando si cerca di far cadere una giunta senza sottolineare che questo produce un danno irreparabile per la città perché la non approvazione del piano, la morte della città, il fallimento produrrebbe dei danni irreparabili per Napoli, vuol dire che alla fine si è nemici non del sindaco ma della città di Napoli e tra sicuramente i principali responsabili di questo atteggiamento scellerato dal punto di vista politico e istituzionale c'è Gianni Lettieri, su questo senza dubbio, quindi con questo e con quello che abbiamo visto si chiude definitivamente ogni possibilità di dialogo politico e istituzionale e prima ancora etico e morale con chi è stato avversario politico e che è stato sconfitto. Lavoriamo nella consapevolezza che il piano è corretto e giusto, quindi la programmazione che avevamo immaginato di risanamento partita nel 2013 decennale, che viene su una raggio di azione decennale, il primo anno è stato rispettato, anzi addirittura siamo in anticipo su alcuni obiettivi intermedi, il 2014 proprio perché siamo in anticipo non solo andiamo a consolidare la manovra di risanamento prevista dal piano ma stiamo anche in qualche modo immaginandoci delle attività di rilancio e mi riferisco alla cultura, mi riferisco ad azioni di intervento sulla città per riqualificare aree e ovviamente intervenire sulle manutenzioni stradali, sul patrimonio monumentale e su altre azioni che renderanno sicuramente più vivibile questa città. Molto si farà anche per l'ambiente, ci sono molti interventi per quanto riguarda il verde, abbiamo raddoppiato i fondi per il verde e rafforzeremo gli investimenti per Asia per quanto riguarda le spazzatrici. Già stanno arrivando in questi giorni due o tre spazzatrici, altri ancora arriveranno nel corso dopo l'approvazione del previsionario, quindi un'azione forte anche nella direzione della vivibilità della città. Grazie.